Come affermava Brian Tracy, le abitudini si sviluppano gradualmente. L'azione ripetuta può formare un'abitudine, che buona o cattiva che sia, è sempre un'abitudine. Questa è una buona notizia perché ci aiuta a capire che qualunque strategia mettiamo in atto, se propensa al nostro successo, allora è una strategia di successo e quindi queste strategie possono arrivarci in aiuto. Poiché ogni strategia che facciamo, ogni cosa che impariamo, ogni cosa che evitiamo di procrastinare, ogni motivazione che mettiamo in atto per fare questa determinata azione, ci aiuta a fare un passo. Insomma, possiamo dire che la procrastinazione è un nemico che possiamo sconfiggere, è un nemico che è arrivato alla nostra porta, possiamo dire, mi dispiace, qui non è. Ma ricordati che ogni passo che farai per evitare di procrastinare, allora tu sarai una persona di successo e vincerai tutte le sfide, metterai in atto e decidrai di fare e agire per questa motivazione. Ricordati che la procrastinazione è l'assassino dell'opportunità. Ma cerchiamo di evitare questa cosa e l'opportunità non è un treno che passa una volta ogni tanto, ma è un treno che puoi percorrere e prendere e riprendere tutti i giorni se tu eviti di procrastinare. Perché ogni strategia, ogni successo parte da una decisione. Io ti ringrazio per essere qui fino alla fine di questo video. Ciao e alla prossima.